ciao ragazzi benvenuti all'aggiornamento delle 19 e allora come avete visto dal titolo questo sarà il mio ultimo video infatti ci stavo pensando già da un po di tempo e ieri pomeriggio ho preso questa decisione questo sarà infatti il mio ultimo video con questa qualità così bassa no dai era un po per scherzare comunque no davvero siccome adesso sto iniziando a fare un video al giorno da caricare anche qui su youtube e insomma il cellulare che avevo fino adesso non era così performante e in più anche per instagram insomma quando caricavo le foto si vedevano abbastanza male insomma ho deciso di prendere anche io un iphone e diciamo che non avrei non avrei mai detto di prendere un iphone perché appunto costano tanto eccetera però d'altronde dato che come come sapete carico un video al giorno e poi c'è instagram eccetera magari mi serve qualche integrazione anche di video per il canale principale ho deciso di prenderlo anche io e dai vi farò sapere come mi trovo e niente va bene dai ragazzi ci vediamo al video di domani e buona serata a tutti